I primi Stati Uniti, il Canada, il Giappone, tutta l'Europa, questi sono i paesi che in questo momento sono più pronti per i nostri prodotti. Cresce la produzione, 880.000 tolitri di vino, il valore dell'export, 57 milioni di euro, incrementando di oltre il 38% il suo valore negli ultimi 10 anni, le produzioni a denominazione di origine. Il vino marchigiano si presenta così al Vinitaly 2019 dal 7 al 10 aprile, un settore in ottima forma, 144 le aziende marchigiane, 255 le etichette da gustare nella terrazza Marche, all'interno dello stand istituzionale. I bianchi prodotti di punta, verdicchio, pecorino, passerina in testa, affiancati da 20 denominazioni autoctone, dalla forte identità territoriale e un biologico in aumento. È un settore fortemente orientato all'export, con valori economici molto importanti, sui quali non possiamo venire meno in termini di vicinanza e di impegno. I 50 anni del verdicchio e i 50 anni del bianchello. Sì, si stanno susseguendo questi compleanni eccellenti, quest'anno è l'anno dopo il Mantelica, dopo il Castello di Iesi, quest'anno è il bianchello, una doc che sta risorgendo, riscoprendo, andando molto bene, stanno lavorando benissimo, si sta trovando anche una certa coesione tra le cantine, questo è di ottimo auspicio per fare questo compleanno del bianchello. Saranno esposte oltre 250 etichette di vino al libero assaggio e quindi chiunque potrà provare i nostri vini per poi andare invece a parlare di affari e di acquisti nelle esposizioni singole. Grazie a tutti.